ieri giovedì 22 dicembre 2022 era il giorno fatidico e utilizzerei questo aggettivo proprio in senso letterale ovvero capace di rivelare il futuro ma perché cosa doveva succedere ieri ieri era il giorno della proiezione del documentario invisibili a palazzo tursi a genova vi ricordate ho fatto il video e poi un certo mister bassetti si era opposto con tutte le sue forze alla proiezione rivolgendosi al sindaco bucci che ha risposto ogni consigliere comunale ha diritto di utilizzare quella sala e quindi anche mattia crucioli potrà farlo e non dovrebbe neanche dire il motivo mentre crucioli l'ha fatto e secondo voi come andate a finire vi mostro innanzitutto qualche foto che ho preso dalla pagina facebook di assemblea popolare del tigulio se vi ricordate è il comitato cittadino che ha organizzato la proiezione a casarza ligure dopo la quale youtube ha rimosso il video eccetera atteggiate gli occhi a stupore questa è la gente che non è riuscita ad entrare attenzione non è la gente che sta per entrare e la gente che non è riuscita ad entrare ecco qua che cercano di scrutare di vedere qualcosa e ci sono anche i vigili urbani li vedete ora vi mostro un video realizzato proprio ieri che ho trovato sempre nella stessa pagina facebook vi facciamo vedere un pochino quanta gente c'è fuori dalla sala la sala dentro è già piena e il film è in corso il film durerà circa un'ora e mezza come diceva mattia crucioli poi al termine del film inizierà il dibattito che manderemo in diretta su questa pagina però intanto volevamo farvi vedere l'affluenza viste лежit non si sveglia in giro e mezza faccio vedere l'affluenza di 5 quando avrà un paurito l'affluenza dove ce l'affluenza vediamo che c'è una piazza che va bene 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 bambini gara qua c'è una piazza che diceva fa come c'è un'altra parte dello parte questa parte Ecco questa è la situazione, adesso proviamo a chiedere a qualcuno che è venuto e non è riuscito a entrare se ci vuole dire due parole. Non mi aspettavo così tanta partecipazione, sicuramente nei giornali non è uscita neanche una riga e quindi la stampa non vuole in nessun modo dare risalzo a chi la pensa in modo diverso, ma questo lo sappiamo e la cosa che mi ha stupito è che indipendentemente dalla stampa la gente ha reagito, ha saputo delle notizie di questa proiezione e si è presentata. Segnale positivo. Bene, quindi non ci sei rimasto male di essere rimasto fuori? No, assolutamente. Grazie. Ciao. Vediamo qualche altra opinione qui fuori, ci vuoi dire qualcosa sulla giornata di oggi anche se sei rimasto fuori, non sei riuscito a entrare? Sicuramente è una giornata riuscita e la grande partecipazione dimostra il fatto che ci sono tante persone che desiderano dare voce a chi è rimasto tagliato fuori dall'attenzione non solo della politica dei media ma anche purtroppo del sistema sanitario nazionale che si è visto assolutamente impossibilitato nel prestare le dovute cure mediche che ne avrà bisogno. Quindi secondo te è un'iniziativa da ripetere? Sicuramente è un'iniziativa che è da ripetere nel tema, nei modi, nello spirito di denuncia di una realtà reale e importante da segnalare. grazie, grazie, ciao. Vi facciamo vedere ancora un pochino, non so se riuscite a vedere dentro dove c'è lo scarmo e ancora sulla proiezione. Vi ricordiamo che il film è online e si può vedere sul sito invisibili.playmaster.it adesso vediamo se riusciamo a raccogliere qualche altra testimonianza. Posso chiedere una testimonianza sul... No, 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 grazie. No, non volete fare le testimonianze? Ok. Posso chiedere un'opinione sulla giornata di oggi, sul fatto che ci sono così tante persone anche fuori, l'impressione così a caldo? Ne sono molto felice, ma non avevo dubbio, inizialmente a questo punto successo, richiamo perché la cittadinanza credo molto alla stessa, la stava aspettando. È bello vedere questo che succede dentro la sede del comune di Genova. Sì, direi di sì. Grazie, grazie mille. Ecco qui, vi abbiamo dato una panoramica, adesso vi salutiamo e riprendiamo la diretta appena finisce il film, intorno alle 16.30. Grazie. E che dire, un grandissimo successo, ancora una volta Oscar Wilde ha avuto ragione, bene o male, ma parlate di me. In questo modo l'evento ha avuto enfasi mediatica e così la gente ne è venuta a conoscenza. A questo punto è doveroso un minuto di silenzio per il povero Bassetti, che lui ci ha provato a fermarlo. Ha provato a fare affidamento sulla sua influenza, sulla sua popolarità, ma nulla da fare. E quindi un minuto di silenzio per il povero Bassetti, che me lo immagino triste nel suo ufficio, mentre si organizza per la partecipazione nelle trasmissioni televisive della prossima settimana. Un minuto di silenzio a partire da adesso. Mimar, è un minuto di silenzio nel rispetto di Bassetti. Eh, sì. Infatti, vedi? Mimar, un minuto di silenzio per rispetto a Bassetti. Mimar, va, fai quello che ti pare. Un saluto a Bassetti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale Grazie a tutti